La salsiccia Questa è quasi meglio di un mazzo di fiori, è una meraviglia. Poi, se le mettiamo insieme alla salsiccia, un connubio incredibile, la ricetta è semplice, tagliatele con i porcini e con la salsiccia. Cominciamo? Cominciamo subito. Allora, la prima cosa da fare è l'aglio. Se volete, lo potete lasciare intero e poi toglierlo, oppure farlo direttamente a fettine. Io faccio così. Una puntina di peperoncino, ma proprio una puntina. Lo divido, faccio a fettine anche questo. Così. Ecco fatto. Un bel giro d'olio. E vado a mettere l'aglio e il peperoncino. I gambi dei porcini. Le vado a mettere insieme all'aglio. Ora vado ad aggiungere la salsiccia. Tolgo il butello e poi la rompo a mano. Ora si fa a rosolare veramente molto bene la salsiccia. Poi una volta che è ben rosolata, si sfuma con un po' di vino bianco. Quando la salsiccia comincia a attaccarsi, lo vedete poi, comincia a rimanere un po' di strisciate. Sfumate con il vino. Fuoco al massimo e ora dobbiamo fare evaporare per bene tutta la parte alcolica. Acqua che bolle. Metto il sale. E metto le tagliatelle. Nel frattempo vado ad affettare i porcini. E ora si va in padella, proprio agli ultimi minuti. Questa cosa qui non è obbligatoria, ma vi dico la verità, ci sta molto bene. Un po' di prezzegolo. Prende un pochino di acqua di cottura. Allora, io non ho messo il sale perché la salsiccia toscana è parecchio sapida. È una cosa che ripeto spesso. Però una puntina, mettetela proprio pochino, pochino, pochino. E ora la cosa più bella, mettere la pasta dentro questa padella. Magari un minuto in anticipo, così la fate mantecare bene. Una spolverata di prezzemolo. Questo lo tengo per metterlo nel piatto. Che meraviglia questa pasta. Poi c'è il profumo, è fantastico. E ora si assaggia. Un po' di salsiccia, sia mai che non ne metto. Funghi. Un altro po' di prezzemolo. Se volete, potete mettere anche un giro d'olio, perché ci sta bene. Mescolo per bene, mi prendo il porcino, due porcini. Non so se ho infilzato una salsiccia, ma rimedio subito. Dentro questo rotolino c'è il mondo di porcini, salsiccia. Questo lo riporto su, vediamo un po' se ci riesco. Ci sono riuscito. Eh? Vado? Vado. Soffio. Buona, se non buonissima. Buonissima. E allora, siccome non sono proprio, come si dice, non ho ancora questa convinzione, se questa può essere definita una pasta buona, una pasta buonissima, ho necessità di un altro assaggio. Vado, eh? Decisione difficile, seriamente molto difficile. Io, per serietà, continuo ad assaggiare e poi vi farò sapere. Eh, eh, eh. Buonissima. 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 Grazie a tutti.